Salve a tutti ragazzi, sono qua in mezzo al bosco, infatti c'è il ruscello qui dietro, c'è gli uccellini, si sente ancora un po' di casino, diciamo umano, infatti c'è chi taglia, però insomma meglio che non stare nel centro paese. Oggi finalmente c'è sole in questo posto dimenticato dal sole perché ormai è diventato Mordor, dove piove e c'è cupo. Comunque in questi giorni mi sono un pochino allenato, la freccetta, non ho seguito le partite, le cose, ho visto che Michele Turetta ha giocato contro Van Gerwen, ma onestamente non ho trovato il video, ho chiesto, mi hanno detto che non c'era e in più sulla targhettina perché su Darts24 mi pare non c'era neanche come è andata la partita, c'era solo il punteggio finale ma non gli average, le cose, quindi non so come sia andata quella partita, ha vinto Van Gerwen ma mi sarebbe piaciuto capire un po' come è andata, quindi io lo seguivi su DarkoNet, quando c'era la partita non ho potuto seguirla, mi dispiace, sarebbe stato bello vedere Michele insomma giocare contro Van Gerwen, se avessi abbattuto sarebbe stato il massimo, però insomma non importa, l'importante di giocare con Van Gerwen è sempre un gran traguardo. Comunque ho notato, non so se è anche a voi questa cosa, io ormai ho dei punti fissi, cioè i miei piedi stanno nella posizione corretta, il mio corpo sta nella posizione corretta, riesco a capire velocemente se sono rigido di schiena, quindi cercare di rilassare sia le spalle che la schiena, perché magari sto tutto così all'inizio, quindi riesco a rilassarmi praticamente dopo 3-4 tiri sono a posto, il braccio, poi c'è solo la velocità, la pressione che noi tiriamo quando lanciamo la freccia, che vabbè lì ci sta che ci sia un po' di allenamento, perché devi prendere la misura, e rilascio, vabbè, però insomma quello non è una roba, è una roba normale, tieni un attimo, ero riuscito a tornare a giocare praticamente meglio di come giocavo nel 2019, il 2020 ho arrivato al mio massimo, perché non scendevo mai sotto i 90 di average, quindi lì era proprio il top, lì era proprio il top, poi vabbè, dopo tutto quello che è successo, ho mollato, poi ho ripreso ed avevo ricominciato a giocare diciamo a quel livello là, ma la cosa che non riesco mai a fare uguale, non so se voi, ditemelo magari nei commenti se voi avete questo stesso problema, l'impugnatura, l'impugnatura è una rottura di scatole senza confini, perché ogni volta basta proprio una micro micro differenza e mi cambia tutto, ed è l'impugnatura direi che è fondamentale, forse più l'impugnatura che non tutto il resto, ma non riesco mai a prendere la freccia e dire ok è così, poftiro è sempre uguale, no? Neanche con certe frecce che hanno il tappo che è sempre lì, perché sposto sempre la freccia se questo è il dito, no? Magari la prendo un po' più qui, un po' più in qua, no? Quando chiudo il dito perché la prendo così, la freccia è qui, cambio, ma proprio robe meno di millimetriche e cambia tutto e ci perdo, lì è veramente la cosa che mi fa dannare ogni volta. Ogni volta dico ok, questo è il punto, questo me lo ricordo, eh? Poi parca miseria, è la cosa che mi fa sempre dannare perché poi da come impugni la freccia si determina poi la mira sul bersaglio, quindi è come se tu la posizionassi su un mireno, la metti lì e sai che tirando così prendi il centro del tuo dito, del coso, e quindi è sempre ribilanciare la posizione del corpo sul tuo dito per essere preciso e perfetto a me risulta difficilissimo. È l'unica cosa che devo sempre rompermi le scatole per riuscire a trovare la quadra ed è sempre la stessa cosa, non riesco mai, nonostante abbia provato, perché poi la prendo sempre uguale, però basta proprio, perché la presa è sempre questa così e tiro, la metto lì, però non è mai perfettamente uguale, quindi ci perdo veramente, è la cosa con cui litigo di più, finché non ritrovo la quadra e poi parto e poi vabbè, sto pochissimo a sistemare le cose, in due settimane mi risistemo, ma la cosa che mi dà più noia è quello. Non so se voi avete lo stesso problema, poi magari sto una settimana senza giocare, prendo la freccia, mi sembra veramente, quelle da 21 mi sembrano gigantesche, vado a prendere quelle da 23 mi sembra una roba pazzesca, prima mentre giochi invece ti abitui talmente tanto che ti sembra di tirare uno stuzzicadente. Quindi la grossessa, cioè cambia la percezione che hai sulle dita e non riesce mai ad essere identica, neanche se è la stessa freccia. Comunque sapetemi dire se anche voi avete riscontrato questo problema nel, intendo nella perfezione dell'impugnatura, non l'impugnatura più o meno sembra la stessa, però la precisione super millimetrica della posizione della freccia. Quella è la cosa più tosta. E vabbè, niente, detto questo cercherò di allenarmi di più e di tornare a fare, però sempre rotture di scatole ragazzi. Qua c'è Arietta adesso, sono proprio dentro il bosco, si sta bene, qua da Andrea hanno disfatto mille boschi, ma insomma, perché il tempo che c'è stato, da settimana fa, è stato un disastro, perché a casa mia è caduto un pino gigantesco che aveva 50 anni, forse anche di più, ma comunque. Detto questo ragazzi vi saluto, tra poco ci sarà la World Cup presumo, quindi vedremo di seguire la World Cup. Salve a tutti!